Ciao ragazzi, ho preparato una serie speciale dei mini paletta da 2 cm per poter pescare a spinning nei fossi utilizzando la telegommi in canna morbida e pescare dall'alto. Ho fatto un paio di modifiche, sostanzialmente è un pelino più pesante dell'originale, ho spostato l'inclinazione della paletta, gli ho dato un po' più di inclinazione alla paletta, l'attacco è leggermente diverso e niente, adesso vediamo come nuota e poi vi faccio vedere come è andato il collaudo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. FOSPING Mini paletta 2 cm. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.